Ciao a tutti, allora questo come avevo già anticipato nel video precedente sarà un video in collaborazione con FGM04 sono particolarmente contenta di questa collaborazione soprattutto alla luce di quello che vi ho raccontato nel video precedente per diversi motivi, innanzitutto perché parliamo di un'azienda made in Italy ovviamente questo mi fa ancora più piacere, poi è anche qui vicino perché è in provincia di Modena quindi non può che farmi ancora più piacere io li conoscevo anche se li avevo osservati da lontano perché prevalentemente loro lavorano con profili di persone che si occupano di fitness io non mi sono mai occupata di fitness, seguo pochissime persone ma veramente poche nel settore quindi sì l'avevo sempre osservati ma nulla di particolare poi nel mio gruppo Telegram, in particolare Valeria che ringrazio tra l'altro ma poi in realtà anche altre ragazze hanno provato nel frattempo alcuni articoli cioè in particolare i leggings di cui parleremo ampiamente perché è il prodotto sicuramente di punta del brand ma è un'azienda cosmetica quindi producono sia abbigliamento ma anche prodotti cosmetici in questo video parleremo solo di abbigliamento nel prossimo che sarà un pochino più là adesso vediamo quando vi parlerò invece dei trattamenti che io sto provando in particolare di bendaggi, creme e fanghi li sto continuando a testare e ne parleremo più approfonditamente in un prossimo video quindi dicevo che sono contenta perché sicuramente perché è un'azienda made in Italy ma anche perché mi sono trovata in mano un prodotto che è veramente spettacolare io vi racconterò la mia esperienza con questi leggings purtroppo in questo momento le palestre sono chiuse quindi l'unico posto in cui non le ho provati sono le palestre però fino a stamattina, in realtà anche già in precedenza li ho testati per esempio in esterna diciamo con una camminata lunga in salita io poi man mano vi metterò delle immagini dei prodotti indossati degli articoli indossati man mano che ve li mostro e vi racconto un po' di cose qual è la particolarità dei tessuti di FGM04? allora tutti i prodotti, quindi leggings e anche body, maglie, canotte e bollerini sono fatti di questo tessuto questo è un esempio ma poi ce ne sono fatti diversamente magari a costine o con una trama diversa che per ora sono una questione estetica nel senso che poi la tecnologia che ci dietro il tessuto è uguale per tutti quindi c'è questa tecnologia dietro il tessuto attenzione che questa cosa è importantissima perché questo significa che non contengono principi attivi di per sé questo significa che non vanno via con il lavaggio e con il lavaggio il prodotto mantiene sempre la stessa caratteristica perché la tecnologia è proprio nel filato quindi nel DNA diciamo così del filato che cosa fa in particolare? in pratica riflette il calore stesso del nostro corpo che noi maniamo normalmente sotto forma di infrarossi lunghi questa cosa va a stimolare la microcircolazione di conseguenza cosa succede? che va diciamo ad agire sui inestetismi della cellulite anche se secondo me diciamo che più che altro io mi manterrei su un discorso di microcircolazione poi come conseguenza è quella di aiutare contro anche gli inestetismi della cellulite il risultato finale che poi è quello che ci interessa e di farlo della mia esperienza è quello di sentire le gambe innanzitutto come più riposate quando le avete tolti io sento un effetto drenante pazzesco e sapete che io lo dico sempre io non soffro di ritenzione idrica perché come conformazione non ce l'ho ma anche quando le indosso in casa e praticamente ormai li indosso sempre perché faccio a cambio voi vedete questi marroni ma addosso a quelli neri che poi vi faccio vedere anche quando li tengo in casa e sto seduta al pc è impressionante mi fa un effetto diuretico per cui io spesso vado a fare la pipì in più un'altra cosa che ho notato la pelle risulta più morbida dopo che le avete tolti si consiglia di tenerli circa 6 ore al giorno almeno ma secondo me le tengo anche molto di più perché le tengo praticamente dalla mattina alla sera mi piacciono molto perché li metto sia con un abbigliamento sportivo e tra l'altro in questo periodo è stato pressoché l'unico tipo di abbigliamento che ho indossato ma anche casual tipo oggi vi faccio vedere oggi ho questo maglioncino leggero di cotone e sotto ho i leggings questo qua perché comunque rimane molto comodo va bene anche per un abbigliamento di tutti i giorni e vi dirò di più perché la cosa che mi ha colpito particolarmente era proprio questo discorso sulle gambe meno stanche quando ce li avete addosso è come se vi aiutasse anche nello sforzo mi spiego ho fatto varie prove ho provato vari leggings di cui anche quelli di cui parlavo nel precedente video non qua ma quando ero a casa del mio compagno ho provato in giorni diversi a fare la stessa strada perché lì avevo più percorsi uno in particolare era in salita aveva circa 3 km in salita lo stesso percorso fatto con i leggings della concorrenza diciamo così che non avevano nulla di particolare a parte l'estetica ma quindi non c'era un tessuto tecnico è fatto con questi leggings una differenza abissale cioè proprio le gambe le sentivo come più potenti cioè sentivo un'energia maggiore nelle gambe questa cosa l'ho provata più volte anche stamattina la mia intenzione è quella di usarli anche spispera a breve per il trekking magari dipende dalla temperatura però magari indossandoli sotto i pantaloni del trekking anche se ma sono solo per un discorso di tasche perché ho bisogno delle tasche che ho nei pantaloni da trekking però per esempio una ragazza serena che è saluto che mi segue qua mi ha raccontato che l'altro giorno era andata a fare trekking e l'ha rimasta impigliata in un rovo per dire non si erano rovinati quindi non si rompono neanche facilmente il tessuto è parecchio cioè bello resistente attenzione la particolarità sta proprio nel tessuto e la cosa bella è che li possono indossare tutti perché io non ho particolari problemi ma ci sono molte persone che hanno problemi di capillari oppure problemi di tiroide allora non possono usare alcuni fanghi alcuni prodotti insomma non ci sono controindicazioni li possono usare tutti perché spesso i prodotti più efficaci per esempio per cellulite o comunque che possono aiutare un po' eccetera o per per drenare per la ritenzione sono hanno magari degli ingredienti che non tutti riescono a utilizzare o per un discorso che generano calore o per altri motivi e non riescono ecco con questi non avete nessun problema li possono indossare tutti se voi andate sul sito trovate un sacco di una collezione molto vasta tutti hanno la stessa caratteristica come vi dicevo proprio di della tecnologia del tessuto può cambiare per esempio la trama o il modello quindi l'estetica io ho due paia di leggings che sono Nikita shape up quindi quelli proprio più famosi più classici ho questo marrone e quello nero che ho adesso addosso hanno tutti questa fascia alta questo fascione alto che è la mia parte preferita perché ovviamente per chi ha un problema di pancetta è fantastica perché ve la minimizza e poi in particolare questo shape up io non so se lì sì credo si possa percepire ha una leggerissima arricciatura dietro che vi tira su il popò che è una meraviglia cioè vi fa un fantastico e io agevolerò depositive e video nel frattempo qua a fianco così li potete vedere indossati una cosa che io apprezzo tantissimo è il fatto che questa fascia non si arrotola perché è una cosa odiosissima che ho riscontrato in leggings per esempio della concorrenza e come modellante non ce n'è io vi ho parlato di un leggings shaping che avevo comprato l'anno scorso mi sono anche trovata bene perché l'ho usato per tanto tempo ma l'effetto modellante di questi per un altro pianeta sono curiosa di provare anche i push up quindi voi trovate altri modelli ma cambia semplicemente l'estetica ripeto il principio dietro è lo stesso e poi ci sono per esempio gli urban style che hanno per esempio una trama ancora diversa adesso è uscita la nuova collezione che è l'acalypso che ha la trama a costine i colori sono bellissimi ce ne sono per tutti i gusti tutti i colori quindi trovate sicuramente quello che fa per voi e adesso arriviamo anche al discorso taglia è importantissimo prima però vi faccio vedere tre articoli che ho invece per la parte superiore la cosa incredibile che mi hanno spedito tre colori di cose che sono in linea con la mia stagione armocromatica ma questa cosa mi ha sconvolto perché è pazzesco guardate i pezzi sopra bianco nero e petrolio sono i miei colori da inverno profondo perfetti allora cosa mi hanno mandato la prima volta mi hanno spedito questo body che è un body a manica lunga ve lo faccio vedere indossato perché è tutto nero quindi non si vede niente body e manica lunga però mi avevano spedito la M esattamente come il pezzo sotto allora la M sarebbe una 44-46 ma adesso al discorso dei tagli e ci arriviamo l'unica cosa che a me questo sta un filino stretto ma proprio per una conformazione fisica perché io sopra sono un po' più grande come dire quindi nel mio caso poi infatti mi hanno spedito altri due articoli e sono taglia L sì sono taglia L questi qua e mi hanno spedito un altro body e vi dico che la figata del body è che vi aiuta ancora di più a appiattire la pancia e spero che nelle clip che ho girato si possa percepire questa cosa mi hanno mandato questo bianco sotto si aggancia con i gancetti classici vabbè quindi questo body qua e anche i body e le maglie hanno sempre lo stesso tessuto quindi il principio è sempre lo stesso e questa maglia qua che invece è maglia semplice tiro collo è abbastanza lunga quindi per chi non vuole la pancia di fuori è perfetta è fantastica anche questa poi il colore è stupendo e questo mi veste sicuramente più comodo è molto meglio ecco quello sì discorso taglie allora è fondamentale che guardiate le taglie che ci sono indicate ogni prodotto cioè ogni anche ogni tipo di leggings ha una guida alle taglie diversa perché hanno una vestibilità leggermente diversa è importante ordinare esattamente vi prendete le misure quelle che sono indicate girovita e giro fianchi e io ho fatto così e in effetti mi sono andate perfettamente l'unica cosa è stata che per la parte sopra per la mia conformazione che sapete sono più tendente a essere più grande nella parte superiore più comodo nella taglia superiore ecco però per i leggings insattenetevi a quello perché è importante che vi avvolgano bene attenzione non vi comprimono ecco questo ci tengo a dirlo ma avvolgono molto bene la gamba e ci sono anche i pinocchietti e anche i ciclisti ecco quelli adesso per il caldo non so perché sinceramente sono molto traspiranti questo me ne sono accorta ora che faceva veramente freddo quindi io non so come si comporteranno con il caldo c'è da dire che io sono una che tolera molto molto male il caldo quindi diciamo che il pensiero di mettermi un pantalone lungo non mi alletta però ho conflito di provare i pinocchietti e i leggings che almeno sicuramente sono più insomma mi faranno patire meno il caldo però seguono sempre lo stesso principio sono modellanti eccetera mi stavo dimenticando una cosa importantissima infatti sto facendo questa clip dopo mi hanno dato un codice semplicissimo ornitorella se lo inserite al momento dell'acquisto vi danno un omaggio nel carrello in più per le promozioni in realtà potete inserire anche un altro codice ma quelle le trovate già sul sito in base al momento in cui ordinate quindi basta andare sul sito e voi trovate già direttamente un codice da utilizzare e potete aggiungere anche il mio niente niente quindi io credo di avervi detto tutto mi raccomando le taglie dovete attenervi alla guida e per ogni modello attenzione che non è detto che prendiate la stessa taglia e se per caso voi normalmente pensate di vestire una S o una M lasciate perdere dovete guardare le taglie che ci sono sul sito niente io con questo ho concluso ci sono anche dei bollerini che sono dei tipo crop top un po' più corti non so se mai indossero una cosa del genere io con questo ho finito e ringrazio FGM04 ci vediamo poi nel prossimo video non adesso ma tra un po' di giorni vi parlo anche degli altri prodotti che ho testato anche quelli mi sono trovata bene ovviamente dipende lì dalle proprie esigenze però mi hanno convinto molto anche quelli quindi ne parleremo sicuramente nel prossimo video vi mando un bacio e alla prossima